benvenuti a questa lezione di sistemi informativi in cui parleremo dei sistemi informativi web ovvero di quella che è la struttura o meglio il modo standard di andare a realizzare dei sistemi informativi innanzitutto che cos'è un sistema informativo web è sostanzialmente un sistema informativo in cui la comunicazione avviene tra dispositivi che sono affacciati per così dire su internet oppure che comunicano attraverso quella che si chiama una virtual private network ovvero un canale cifrato che si appoggia anch'esso su internet e sostanzialmente nei sistemi informativi web l'accesso avviene tramite un'interfaccia standard che è quella rappresentata da un browser quali sono i diversi attori che possono interagire in un sistema informativo web sostanzialmente abbiamo delle aziende gli utenti e quella che è l'amministrazione pubblica per cui i sistemi informativi web permettono diversi tipi di collaborazioni permettono delle collaborazioni business to consumer che se volete è quella più ovvia e più standard che possiamo immaginarci in cui un'azienda interagisce con gli utenti oppure possiamo avere le collaborazioni tra diverse aziende quelle che si chiamano business to business ovviamente abbiamo anche delle comunicazioni che possono essere fatte tra diversi utenti quelle che si sono consumer to consumer immaginate un servizio di aste sostanzialmente l'operazione di scambio di interazione avviene tra diversi utenti il sistema informativo sostanzialmente permette di fare questo tipo di operazione e poi abbiamo ovviamente le interazioni con quella che la pubblica di amministrazione quindi government to business e government to citizen per cui in quest'area abbiamo tutti i sistemi per il pagamento delle tasse per poter essere conformi a vari tipi di legislazioni regolamenti sul nell'interazione tra utenti e pubblica amministrazione abbiamo ovviamente le tasse online ma abbiamo anche richieste di certificati o cose di questo tipo quindi quando parliamo di web information system sostanzialmente andiamo a identificare diverse categorie di sistemi informativi che permettono di andare a sostanzialmente garantire la collaborazione tra diverse tipologie di attori ovviamente un sistema informativo web può avere diversi livelli di complessità diciamo che quelli più semplici sono i siti puramente informativi in cui un'azienda ad esempio dice chi è che prodotti ha quali servizi può offrire quali sono i contatti inoltre può pubblicare quelle che sono delle newsnetter oppure dei blog un passo successivo è quello di un sito in cui io posso fare un ordine quindi praticamente di commercio elettronico in cui io posso andare a fare la selezione dei prodotti eventualmente una configurazione quindi posso andare a scegliere delle varianti degli accessori e poi posso fare l'acquisto un livello di complessità ulteriore è quello che è rappresentato dai sistemi di di gestione quindi abbiamo qui un po' di sigle che poi riprenderemo in qualche lezione futura crm ovvero customer relationship management ovvero i sistemi che permettono di andare a garantire la cura della clientela quindi il supporto la gestione post vendita eccetera supply chain management che sono i sistemi che permettono di andare a supportare quella che è la catena di fornitura cliente fornitore e cliente del del fornitore eccetera erp che sta per enterprise resource planning che è il sistema che permette o la famiglia di sistemi che permettono di andare a gestire le risorse di una intera azienda e mrp manufattori resource planning ovvero i sistemi che permettono di andare a gestire tutte le risorse che sono coinvolte nell'attività manifattoriere e poi abbiamo a un livello di complessità ulteriore i sistemi autonomi in cui abbiamo ad esempio la negoziazione di prezzi di vendita delle azioni la gestione di transazioni il monitoraggio di alcuni aspetti e ulteriore passo quelli che sono i portali o il marketplace che in pratica sostanzialmente aggregano tanti sistemi diversi e li fanno lavorare assieme offrendo quella che è una vista sostanzialmente unitaria all'utente finale ma a noi interessa capire quali sono le basi di quello che è l'architettura del web ovviamente non è l'obiettivo di questa lezione darvi una conoscenza tecnologica completa e approfondita di come funziona il web ma sostanzialmente è una lezione che potremmo chiamare tutto ciò che avreste voluto soffrire sul web e non avete mai usato chiedere quindi un po di concetti fondamentali che vi permettono di capire come funziona il web una premessa l'evoluzione dell'architettura web è stata esplosiva negli ultimi anni quindi iniziamo dagli anni 90 in cui in pratica il web è nato con diversi browser che sono nati nel tempo e con tutti questi fili che rappresentano nuove tecnologie che sono state sostanzialmente adottate prima da alcuni browser poi da altri e alla fine si sono mescolate fino a costituire quello che è l'architettura alla base del web moderno ma partiamo dall'inizio quindi iniziamo a vedere le tecnologie di base che erano quelle presenti all'inizio del web e che tuttora ci sono semplicemente sono quelle più alla base di tutti su cui si appoggiano tutte le tecnologie successive in generale il web si basa su un'architettura a livelli dove sostanzialmente ogni livello ha un ruolo ben definito e in pratica permette di interagire con gli altri livelli in modo da scambiare informazioni per cui a livello più alto abbiamo quello che è il client ovvero il software con cui interagisce l'utente del sistema informativo allo strato inferiore ritroviamo quella che è l'infrastruttura del web in cui abbiamo una complessità che può essere molto elevata e in cui noi non entriamo perché ci sono aspetti tecnologici molto di dettaglio sotto abbiamo ancora quello che è il server web ovvero il server che è in grado di parlare un protocollo standard che è quello con cui scambia le informazioni e i dati con il browser ovviamente web server da solo non è in grado di fare tante cose ma ha bisogno di quello che è un application server ovvero un altro server che sia in grado di svolgere delle operazioni più complesse il web server in termini di funzionalità è abbastanza standard serve per permettere di scambiare dei dati l'application server invece è più specifico ed è in grado di svolgere delle operazioni specifiche per il nostro sistema informativo quindi che so attivare un tirocinio registrare una vaccinazione eccetera ovviamente l'application server ha la necessità di utilizzare un livello ancora inferiore che nel caso più semplice è un database server ovvero una parte dell'architettura che permette di andare a memorizzare in maniera permanente i dati in casi più complicati potrebbero essere altri servizi altri server a cui il nostro application server richiede alcune funzionalità ma partiamo da capo e andiamo a a vedere quali sono i due elementi fondamentali abbiamo sostanzialmente un client e un server questi due interagiscono attraverso una connessione internet storicamente il client è un browser ma nel web moderno il client potrebbe essere anche un'applicazione mobile una applicazione per un desktop oppure un'altra applicazione server che sostanzialmente sfrutta il server come un componente di appoggio quindi i componenti che sono coinvolti in questa struttura ovviamente sono quello che è un fornitore di servizio internet internet service provider usp ovvero un'azienda che sia in grado di portare all'azienda oppure al cliente finale una connessione internet quindi i nostri operatori commerciali team vodafone fastweb wind libero eccetera sono tutti internet service provider ovvero non ci interessa come quindi sappiamo che dietro ci sono dei cavi che vengono fatti passare tutta un'infrastruttura intermedia di cui non ci interessa sapere i dettagli che permette di avere una connessione internet con cui accedere a i vari server abbiamo la necessità di avere almeno un server il server web con cui poter interagire la rete di connessione ovviamente che è nascosta dall'internet service provider e gli elementi intermedi che ci permettono di fare fluire le informazioni come avviene la comunicazione all'interno del di internet o delle reti in generale tramite quelli che si vengono chiamati dei protocolli di comunicazione un protocollo di comunicazione sostanzialmente un insieme di regole che permette di trasferire dei dati tra due o eventualmente più parti il protocollo di comunicazione sostanzialmente definisce quella che la sintassi e il formato quindi come sono strutturati i dati quindi ho 12 bit per l'indirizzo 2 bit per indicare il tipo di informazione che voglio mandare un bit che mi può segnalare l'urgenza eccetera la semantica di tutti questi elementi la procedura che deve essere seguita quindi se io ho bisogno di fare uno scambio complesso di informazioni non mi basta semplicemente mandare un pacchetto di informazioni magari ho bisogno di scambiare più informazioni tra le due parti che sono coinvolte ho bisogno di meccanismi di sincronizzazione in modo che non tutte e due parlino contemporaneamente che ognuno rispetti il proprio turno e anche dei meccanismi per andare a ovviare nel caso in cui vengono rilevati degli errori quando parliamo di internet normalmente abbiamo diversi protocolli che costituiscono quello che si chiama uno stack ovvero quando un protocollo per funzionare si appoggia a un altro protocollo il quale a sua volta si appoggia a un altro protocollo e via di questo passo abbiamo una serie di protocolli dipendenti uno dall'altro che formano quello che si chiama uno stack ovvero una pila di protocolli dove quello più in alto utilizza quello più in basso per le operazioni più spicciole il quale a sua volta utilizza quello ancora più in basso per operazioni spicciole nel caso della dell'internet abbiamo a livello base quella che è la comunicazione molto semplice via radio o via cavo per cui abbiamo il collegamento wifi ethernet con il cavo il collegamento bluetooth il collegamento 4g o 5g tramite la rete cellulare questi ci danno sono tutta serie di protocolli che ci permettono di trasmettere dei dati molto molto semplici questo è quello che si chiama il livello logico in cui sostanzialmente mando un'informazione ovviamente questi protocolli tendenzialmente sono protocolli che permettono di colloquiare 11 molto spesso io voglio mandare la mia informazione non a il router che ho all'ingresso della mia casa dove effettivamente c'è l'antenna wifi a cui sono collegato ma bensì voglio mandarlo a un server che sta ad esempio presso il politico di torino quindi ho la necessità di avere un meccanismo un po più di alto livello che mi permetta di instradare sostanzialmente le informazioni questo meccanismo è dato dal protocollo ip ip sta per internet protocol ed è sostanzialmente il protocollo base di internet e sostanzialmente permette di dato un indirizzo univoco di mandare l'informazione a un server che è registrato all'interno della rete internet con quel indirizzo sicuramente avete sentito parlare di indirizzi ip ecco gli indirizzi ip sono gli indirizzi che vengono sfruttati dal protocollo ip per garantire che un'informazione inviata a un certo destinatario lo raggiunga come fa ci sono una serie di meccanismi di instradamento delle informazioni molto complessi che sostanzialmente non ci interessano a noi interessa sapere che praticamente se noi prendiamo un pacchettino di dati quindi una sequenza di byte siamo in grado di mandarla a livello superiore c'è il protocollo tcp che sostanzialmente permette di mandare in maniera affidabile una sequenza di informazioni di lunghezza arbitraria mentre il protocollo ip permette esclusivamente di mandare dei blocchi di informazione che hanno una dimensione fissa e tendenzialmente non mi dà nessuna garanzia sul fatto che quell'informazione arrivi al destinatario e viene fatto tutto il possibile perché arrivi ma non detto che questo funzioni il protocollo tcp sostanzialmente tramite l'invio di più informazioni tramite ip è in grado di garantire che io possa mandare dati di una lunghezza qualunque e soprattutto mi garantisce che il trasferimento sia affidabile ovvero garantisce che poi il server mi risponda mi dica è arrivato non è arrivato manca un pezzo eccetera questa garanzia la dà il protocollo ip il protocollo tcp che si appoggia a sua volta su protocollo ip che ovviamente di per sé non permette di dare queste garanzie perché perché il protocollo ip è già occupato nell'andare a trovare la strada migliore per far raggiungere il vostro dato al server a cui l'avete mandato ovviamente che cosa contengono questi dati il protocollo tcp non lo dice il protocollo tcp dice se tu vuoi mandare dei dati di lunghezza lunga piacere segui questa serie di procedure abbiamo bisogno se vogliamo mandare dei dati che abbiano un certo significato di un protocollo ancora più di alto livello che è per l'appunto il protocollo http o la sua variante sicura barra criptografata che è https quindi il protocollo https mi dice vuoi ottenere un contenuto una risorsa che è disponibile presso un server web benissimo i passi da seguire sono questi ovviamente il protocollo http andrà a utilizzare il protocollo tcp per mandare una richiesta o ricevere i dati il protocollo tcp utilizzerà il protocollo ip per andare a garantire che i vari frammenti in cui spezzetti i propri dati arrivino con una certa garanzia di affidabilità a chi deve e ovviamente il protocollo ip andrà a sfruttare connessioni wifi ethernet 5g eccetera per garantire che ogni singolo pacchetto faccia tutti i vari passaggi da un nodo della rete all'altro quando parliamo di di server che si ricevono o forniscono informazioni spesso utilizziamo il termine in due modi diversi lo possiamo utilizzare in maniera logica sostanzialmente facendo riferimento a quello che è un programma un software che viene eseguito su una macchina e che è in grado di sfruttare un certo protocollo per la comunicazione oppure in senso fisico quindi andando a dire che un server è una macchina quindi un pezzo di metallo che esegue delle istruzioni e ovviamente tra le istruzioni esegue anche le quelle che corrispondono a un server logico in generale non ci occuperemo durante la nostra trattazione molto semplificata degli aspetti hardware e fisici quindi in generale faremo sempre riferimento a quelli che sono dei server logici quindi dei programmi che funzionano utilizzando un hardware sottostante ma a noi interessa focalizzare nostra attenzione sull'aspetto puramente software il server di cui ci occupiamo è quello http detto anche server web ed è sostanzialmente un server quindi un programma che in grado di gestire la comunicazione tramite http che cosa fa un server web riceve praticamente una richiesta da parte di un client legge i contenuti che sono richiesti e eventualmente si appoggia a un application server e manda indietro questi contenuti che molto spesso costituiscono sono costituiti da una pagina che utilizza il linguaggio html quindi il server web è un qualcosa che gestisce il protocollo http ovviamente dall'altra parte deve esserci un browser che anche lui utilizza il protocollo http quindi fa la richiesta dal server aspetta la risposta e poi visualizza il contenuto ovviamente ogni volta che io faccio la richiesta di un contenuto quello che spesso viene chiamato una risorsa devo fare una nuova connessione la connessione protocollo http la fa utilizzando il protocollo tcp il quale a sua volta utilizza il protocollo ip eccetera ovviamente normalmente i server sono in grado di gestire più connessioni contemporanee avendo più processi utilizzando soluzioni multitrade quello che avviene normalmente è che un client tramite la connessione internet che si appoggia su rispettivi internet service provider si collega a web server che permette di fare l'autenticazione questo web server può appoggiarsi per alcuni compiti specifici a un transaction server un database server eccetera vediamo come avviene la comunicazione tra il nostro client e il server web il punto di partenza sul lato client è un url ovvero un indirizzo web quello che si chiama un uniform resource locator secondo quanto prescritto dal protocollo http il client che vuole accedere al contenuto che corrisponde a una certa url deve mandare una richiesta http al server che è scritto dentro l'url il server che riceve questa richiesta che cosa fa capisce che quella richiesta si riferisce a un certo contenuto ad esempio un file html quindi va a prendere il file html sul proprio disco e costruisce una risposta la risposta sia la richiesta che la risposta devono essere formattate immaginate di che sia un modulo cartaceo in cui devo andare a riempire alcuni campi predefiniti va a costruire la risposta mettendola dentro un formato che è quello definito dal protocollo http e quindi manda indietro la risposta a questo punto il nostro client riceve la risposta e può visualizzare il contenuto attenzione tutto questo quindi la richiesta e la risposta avvengono nel contesto di una connessione tcp a quale si appoggia su il protocollo ip quindi la connessione tcp garantisce che io possa realizzare una connessione di tipo http in cui mando la richiesta e ricevo la risposta che la richiesta e la risposta vengano ricevute dal server poi vengano ricevute successivamente dal client è garantito dal protocollo sottostante che è il protocollo tcp ovviamente qui abbiamo alcuni concetti importanti il concetto di url ovvero di uniform resource locator che mi dà gli indirizzi assoluti relativi a quelle che sono delle risorse che io posso utilizzare posso trovare in rete http che è il protocollo che mi dice come il client il browser e il server possono interagire ovvero quali campi devono essere inviati dall'uno e dall'altro e in questo esempio abbiamo anche menzionato html che probabilmente linguaggio più diffuso su internet che sta per hypertext markup language che è un linguaggio che permette di andare a descrivere il contenuto di una pagina web il testo che vi compare se alcuni pezzi sono un elenco piuttosto che una tabella piuttosto che un titolo ecco tutto questo è scritto tramite il linguaggio html come fatto un url un url sostanzialmente è costituito da una serie di componenti questo è un esempio molto semplice ma se volete potete andare a cercare quello che è l'rfc ovvero lo standard che descrive come è costituito un url ma tornando al nostro url qui ne vediamo uno di esempio un url normalmente costituito da una prima parte che sostanzialmente mi dice qual è il protocollo che devo utilizzare per contattare il server ottenere una risorsa http o https sono quelli più diffusi http è il protocollo base https è la variante sicura ovvero in cui le comunicazioni avvengono in maniera crittografata poi ci sono questi elementi quindi due punti doppio slash che vanno a separare il protocollo da il primo pezzo che è sostanzialmente quello che si chiama host ovvero è il nome del server che contiene la risorsa che io voglio andare a recuperare la risorsa è il termine tecnico con cui normalmente si si riferisce ma in pratica molto spesso è un file html un'immagine o qualcosa di questo tipo dopo questa prima parte che è la parte che riguarda l'host c'è la parte successiva che invece è quella che si chiama query ovvero il pezzo di richiesta di che verrà fatto al server per recuperare una specifica una specifica risorsa quindi questo si riferisce un file html che si trova sul file softank polito it e che è accessibile tramite il protocollo http che cosa avviene perché tutto questo possa essere tradotto in una richiesta una risposta e quindi avere poi la visualizzazione di quello che è il contenuto di quella risorsa il primo passaggio viene fatto tramite un meccanismo che si chiama dns dns sta per domain name service che è sostanzialmente un servizio che permette di andare a convertire un nome di dominio in un indirizzo ip quindi se io prendo softank polito it e lo passo a un domain name service tutti gli internet service provider hanno oltre alla connessione che vi offrono anche un dns che può essere utilizzato per andare a convertire i nomi in indirizzi quindi un dns convertirà questo nome in un indirizzo ip indirizzi ip sono sostanzialmente tre numeri tra 0 e 255 che permettono di andare a identificare in maniera unica univoca un server che è accessibile su internet quindi nel caso specifico softank polito it ha come indirizzi ip 130 192 5 173 quindi questo è l'indirizzo ip che verrà utilizzato per andare a fare la connessione la connessione viene fatta avevamo detto tramite il protocollo tcp che quindi andrà a contattare server e che cosa in che cosa consiste questo contatto consiste in una richiesta che segue il protocollo http che menziona ovviamente la parte di query ovvero una volta che ho raggiunto il server voglio all'interno del server una certa risorsa e la risorsa è quella che è indicata da questa parte all'interno del server avrò un meccanismo che sostanzialmente prende questo nome di risorsa che è univoco lo trasforma in un path di un file che esiste effettivamente sul sul disco del server quindi accedo al file system e vado a prendere il contenuto del file html e questo mi permette di andare a recuperare l'informazione a questo punto il server costruisce la risposta e la manda indietro al mio client che è normalmente un browser in pratica cosa succede succede che primo passo mando una richiesta di tipo get ovvero dammi il contenuto di una certa risorsa quindi get qui vedete che riporto la parte di query dell'url il server ovviamente implicito perché questa richiesta viene mandata al server che io ho già identificato e poi qui c'è una parte che indica qual è la versione del protocollo http a cui io faccio riferimento diciamo che quello base è 1.0 poi ci sono una serie di altri parametri per cui ad esempio il tipo di contenuti che il browser è in grado di accettare e poi lo user agent ovvero il tipo di browser che viene utilizzato a questo punto una volta ricevuta la richiesta questa richiesta è stata costruita dal browser e mandata al server il server cosa fa interpreta la richiesta capisce che questo la risorsa corrisponde a un certo file che si trova una certa cartella sul proprio file system la recupera e costruisce una risposta che è fatta così http 1.0 quindi di nuovo la versione del protocollo http con cui risponde ovviamente ci aspettiamo che il protocollo di risposta sia uguale al protocollo che è stato utilizzato per la connessione iniziale 200 ok 200 è un codice numerico e ok è la versione diciamo umanamente leggibile di questo codice 200 quindi 200 vuol dire la risorsa che tu mi hai chiesto è disponibile ovviamente posso avere anche altri codici 404 è il codice tipico del non trovato posso avere codici tipo 500 che mi vanno a indicare che un server ha avuto dei problemi interni eccetera oltre alla prima riga che è quella più importante mi dice ho trovato quello che mi stavi chiedendo ci sono tutta una serie di informazioni tra cui ad esempio la data in cui viene mandata la risposta il tipo di server che sta rispondendo la data di ultima modifica il tipo di contenuto è un contenuto html questo è molto importante perché quando il browser riceve il contenuto deve sapere se quel contenuto è un file html oppure se è un'immagine jpeg ad esempio e quindi è importante che questo parametro questa informazione sul tipo di contenuto sia inviata dal server e poi la dimensione del contenuto quindi le 3021 byte poi c'è una riga vuota e qui inizia il contenuto del file html quello che potete fare è utilizzare i contenuti i meccanismi del vostro browser per andare a capire come avviene questo collegamento e questo scambio di informazioni tra il client e il server vediamo dal vivo con un browser come tutto questo può funzionare allora questa è la finestra di browser apro innanzitutto quelli che sono gli strumenti di sviluppo normalmente è una combinazione di tasti del tipo ctrl alt i in questo caso vedete che ho vari tab in cui ho tanti aspetti che possono essere utili per cui ho le risorse un debugger e quello che è già aperto è la parte di network ovvero di rete qui dentro io vedo tutte le informazioni che vengono scambiate sulla rete tra il browser e il server quando io cerco di accedere a una pagina apro la pagina del corso che ha come indirizzo quindi se io vado ad accedere a questa pagina vedete che ho tante risorse perché ovviamente la pagina contiene riferimenti contiene delle immagini ad esempio il pulsante della licenza che è in fondo quindi non c'è semplicemente la pagina html ma ci sono anche altri contenuti che sono puntati dalla pagina html vedete che la richiesta di questo documento che è di 5,69 kilobyte e ha richiesto 26.6 millisecondi se io vado a cliccare qui ho anche alcune informazioni sugli header per cui ho una richiesta in cui ho vari cookie che vengono inviati in maniera automatica ma ci torneremo dopo una serie di accept text html eccetera eccetera l'host a cui sto facendo la richiesta lo user agent linguaggi accettati codifica accettate quindi io posso andare a mandare informazioni compresse e poi qui ho la risposta del mio server che mi dice http 1.1 questa volta non è 1.0 200 ok tipo di contenuto è text html data quindi 10 novembre 1537 la codifica è compressa tramite una codifica di tipo gzip e la lunghezza del contenuto è di 5565 byte il server è un server apaci versione 2.429 ovviamente qui non ho poi la parte successiva che però trovo qui quindi questo è il contenuto che poi viene inviato e che segue in quella risposta vedete che si tratta di un documento html con tutti i contenuti quindi questo è quello che avviene che è avvenuto nello scambio tra il mio browser e il server softank.it che mi ha mandato indietro questa pagina potete quindi andare a utilizzare gli strumenti di sviluppo del vostro browser tutti i browser moderni hanno questi strumenti di sviluppo che vi permettono di andare a vedere lo scambio di informazioni che avvengono tra il browser e il server o i server se voi accedete a più server in questo scambio può essere utile definire alcune informazioni alcuni indici che ci permettono di andare a misurare le prestazioni uno di questi è quello che si chiama la latenza ovvero la latenza è definita come il tempo che è necessario per fornire un contenuto di 0 byte quindi sostanzialmente soltanto la parte iniziale della risposta poi non ho nessun contenuto effettivo è il momento in cui devo andare ad accedere ovviamente ho tutti i tempi intermedi quindi ho la decodifica della richiesta l'accesso a un file, la costruzione della risposta e poi l'invio e questo è un aspetto che riguarda sostanzialmente il server mi dice quanto è veloce il server a rispondere un'altra informazione, un altro indice molto utile è quello che riguarda la banda che in inglese si chiama throughput ed è sostanzialmente la velocità massima a cui il mio server è in grado di mandarmi delle informazioni o meglio io sono in grado di ricevere queste informazioni dal server questo ovviamente dipende non tanto dal server stesso perché sicuramente deve essere in grado di farlo ma soprattutto dalla connessione di rete quindi quanto è veloce la connessione di rete attraverso cui il server manda queste informazioni un'altra misura che si può andare a considerare è quella di richieste per secondo ovviamente il server non può andare a fornire tantissime richieste contemporaneamente avrà un numero massimo di richieste che lui è in grado di servire in un secondo perché superato una certa soglia sostanzialmente non sarà in grado di operare più quindi non ha capacità infinita ovviamente da latenza e banda throughput io posso andare a calcolare quello che è il ritardo ovvero il ritardo che io osservatore devo attendere prima di poter ricevere il mio contenuto quindi sostanzialmente il ritardo è dato dalla latenza quindi il tempo che serve al server per rispondere alla mia richiesta più la dimensione del contenuto che mi deve essere trasmesso diviso quella che è la banda ovvero la velocità con cui viene trasmesso ovviamente questo funziona se il server funziona al meglio quindi non c'è nessun componente nel server nella rete in mezzo che siano sovraccarichi quindi riducano la banda e migliorano dei problemi per cui ad esempio se abbiamo una latenza di 100 millisecondi quindi il mio server impiega 100 millisecondi a rispondere che è tanto perché abbiamo visto prima che sostanzialmente il ritardo che è quello che stiamo misurando qua per ottenere la pagina del course è stato di 26 millisecondi quindi 100 millisecondi è veramente tanto se la dimensione del nostro contenuto immaginiamo un file html o un'immagine o un pdf è di 100 kilobyte e immaginando che la banda quindi la velocità di trasmissione della rete sia di 800 kilobyte al secondo il ritardo è di 0,1 quindi 100 millisecondi più 100 kilobyte diviso 800 quindi 0,225 ovvero 225 millisecondi ovviamente rispetto alla latenza che è il tempo di risposta del server qui il tempo è più alto perché devo avere tutto il tempo di trasmissione dei miei dati quindi in generale quando noi andiamo a vedere una transazione ovvero uno scambio di informazioni tra il browser e il server devo andare a considerare che ho tanti tempi se al tempo T0 il browser sostanzialmente riceve la mia richiesta sostanzialmente io premo il pulsante per accedere a una pagina al tempo T1 il browser ha concluso la preparazione della richiesta in formato HTTP da inviare al mio server tenete conto che lì dentro può esserci la costruzione di questa richiesta la consultazione del DNS per sapere qual è l'indirizzo IP a cui mandarla e quindi potrebbe essere più o meno lunga ho poi da T1 a T2 un tempo che è il tempo di trasmissione della mia richiesta che di nuovo dipende da quello che è la banda poi una volta che sono sul server web avrò un certo tempo da T2 a T3 necessario per andare a decodificare e capire sostanzialmente qual è la richiesta e dove devo andare a recuperare il contenuto la comunicazione interna con il disco che avrà un certo tempo per leggere il contenuto e poi rispondere e poi da T6 a T7 il tempo per il nostro server web per andare a costruire quella che è la risposta e da T7 a T8 il tempo necessario perché questa risposta arrivi al mio browser e da T8 a T9 ho un ulteriore ritardo dovuto al fatto che il browser una volta che ha ricevuto la risposta deve essere in grado di decodificarla quindi capire qual è il contenuto HTML e andare a mostrare la pagina quindi come abbiamo visto prima il contenuto HTML viene poi tradotto nell'aspetto visuale della pagina all'interno del browser e poi a questo punto posso ripartire con un'altra richiesta ovviamente qui in mezzo ci sarà un certo tempo il tempo necessario all'utente per capire cos'è e per capire dove andare a cliccare quindi in generale ho diversi tempi ho un tempo totale di risposta quindi dal momento in cui io clicco al momento in cui io vedo il risultato della mia richiesta dei tempi di trasferimento della rete e un tempo di risposta del server quindi l'architettura a questo punto è un'architettura che ha questi componenti quindi abbiamo un browser ne abbiamo tantissimi tipi tutti sostanzialmente sono equivalenti nel senso che tutti sono in grado dato un URL di contattare un web server e di andare a mostrare il contenuto perché la comunicazione avviene con un protocollo standard che è HTTP I browser interagiscono con l'utente attraverso quello che è lo schermo in output e tastiera, touchpad, mouse in ingresso all'interno del browser qui ho evidenziato una parte del browser che si chiama layout engine che è sostanzialmente quella componente del browser che non si occupa del protocollo HTTP ma sostanzialmente una volta ricevuto il contenuto diciamo il file HTML è in grado di analizzarlo capire di cosa si tratta e quindi visualizzarlo in maniera corretta la comunicazione tra il browser e il server avviene ovviamente tramite internet il nostro server web che anche qui può essere di vari tipi decodifica la richiesta accede a un file eventualmente ha delle immagini che sono menzionate nel file HTML quando verranno richieste e manda il contenuto indietro ho accennato al fatto che ci sono tanti tipi di server effettivamente questa è una statistica dal 2000 fino a ottobre di quest'anno relativo al percentuale di mercato considerando tutti quelli che sono i siti web attivi su internet di varie tipologie di server quindi questo blu che sostanzialmente ha dominato negli anni è il server Apache che è anche quello che è utilizzato per fornire la pagina del corso abbiamo qui sotto il rosso che finisce qua che corrisponde a Microsoft abbiamo un server Sun che è qui sotto che inizialmente aveva una certa diffusione ma praticamente ormai è quasi a zero abbiamo questo verde che negli ultimi anni è cresciuto molto che è Nginx e poi abbiamo questo viola qui con altri che sostanzialmente sta a rappresentare tante altre tipologie di server che sono in grado di nuovo supportare praticamente il protocollo HTTP qual è la differenza che avranno diverse caratteristiche interne quindi li posso configurare in maniera diversa avranno una diversa velocità di risposta sarà più o meno facile mantenerli avranno un supporto per la sicurezza più o meno efficiente eccetera quindi ho la necessità di andare a scegliere il server più adatto a quelle che sono le mie esigenze per poter andare a fornire ai miei utenti quindi ai browser di tutti gli utenti che si collegano i contenuti che io voglio i contenuti ovviamente sono per lo più in linguaggio HTML non è obiettivo di questo corso andare a vedere cos'è l'HTML vi suggerisco se siete interessati di andare a vedere come è fatto la sintassi HTML ad esempio su questo sito che è un sito in cui ci sono una serie di tutorial e della documentazione in cui potete andare a capire come funziona HTML ovviamente non è parte del corso l'aspetto importante è capire come funziona questa architettura però attenzione questa architettura è l'architettura che avevamo sostanzialmente all'inizio degli anni 90 quando avevamo sostanzialmente un paio di tecnologie quindi http e html nulla di più ovviamente nel corso degli anni si sono aggiunte tutta un'altra serie di tecnologie che si sono appoggiate su questa base fondamentale del protocollo HTTP e hanno portato a costruire quello che è l'internet attuale quindi noi abbiamo visto qual è la base fondamentale nella prossima lezione cercheremo di capire quali sono le ulteriori evoluzioni tecnologiche per sommi capi non entriamo nel dettaglio ma vi darò soltanto alcuni aspetti fondamentali che hanno portato ad avere quello che è il web che conosciamo oggi a presto